in questo video parlerò degli integratori che ho deciso di assumere e per quale motivo ho già spiegato moltissime cose sui motivi per cui li reputo fondamentali perché è una buona idea assumerli ma in questo video parleremo specificamente di me quindi ti spiegherò perché io ho deciso di assumere questi integratori ok il primo da come potrai immaginare è lo iodio lo iodio è in formula lugol al 5 per cento che quando si ordina su amazon viene con questa scatolina e andando ad aprire la scatolina esce fuori la boccettina e praticamente io sto utilizzando già da fine luglio e da come puoi vedere spero che si veda nel video è ancora quasi pieno praticamente è pieno fino a qua l'ho utilizzato solamente per agosto settembre ottobre novembre sono già più di quattro mesi nonostante ciò è ancora quasi pieno dura veramente una vita questo perché comunque si assumono solamente poche gocce io poi lo farò vedere in qualche video successivo quando ho testato i miei livelli di iodio applicando comunque una goccia su un braccio lo farò vedere più avanti comunque sono uscito mediamente carente non molto carente quindi in questi mesi io ho assunto all'inizio 12,5 milligrammi di iodio al giorno quindi con la soluzione al 5 per cento sono due gocce al giorno per i primi due tre mesi ho fatto così mentre invece nell'ultimo mese sto assumendo solamente una goccia al giorno e quindi 6,25 milligrammi al giorno ovviamente la quantità dipende in base alla persona non assumere la mia stessa quantità così a caso devi sapere il motivo per cui assumi un'integratura soprattutto lo iodio tra l'altro per quanto mi riguarda io volevo testare volevo vedere siccome ho capito che la stragrande maggioranza delle persone comunque non ottiene lo iodio in buona quantità dall'alimentazione e che noi abbiamo assolutamente bisogno di quantità elevate di iodio ogni giorno in una quantità molto più alta rispetto a quella dichiarata rispetto a quella consigliata per questo motivo ho voluto vedere quali fossero gli effetti dell'assunzione di iodio di tutti i giorni ero anche curioso di vedere se mi avesse aiutato a livello di pelle se avesse apportato miglioramenti alla pelle invece no questo no io non ho mai avuto tra l'altro sintomi di ipotiroidismo e cose simili non è questo il mio problema le persone che hanno sintomi dell'ipotiroidismo possono aver bisogno di assumere quantità molto più elevate e sicuramente devono aggiungerci anche dei nutrienti sinergici di cui ho parlato nel video sullo iodio per quanto mi riguarda l'unico cambiamento che ho notato con l'assunzione di iodio è che la mattina mi sento ancora più sveglio ed energico lo iodio è come se attivasse il cervello come se ti tenesse attivo mentalmente ancora più di prima nel senso ti tiene in uno stato di allerta cioè riesci ad essere più sveglio per questo motivo è bene assumere lo iodio al mattino non assumerlo mai la sera il secondo integratore che ho iniziato ad assumere è il magnesio bisglicinato che io adoro e reputo fondamentale per tutti i motivi che ho spiegato nel video precedente sul magnesio io ho iniziato ad assumerlo perché nel 2021 mi sono capitate due episodi di crampi che vabbè la era dovuto al fatto che io stavo comunque in un regime ipocalorico per cui mi stavo definendo quindi stavo mangiando molto meno rispetto a quanto mangio adesso mentre invece questa estate è capitato una volta ho avuto un episodio di crampo nonostante io non fossi in un regime ipocalorico ero in ipercalorica stavo mangiando tantissimo ciò nonostante ho avuto comunque un crampo se non mi sbaglio nel mese di giugno nel mese di luglio e questo sicuramente perché comunque stavo sudando tantissimo tutti i giorni se ricordi io in video precedenti ho fatto vedere che cosa faccio in un giorno nel 2022 era estate e quindi ho fatto vedere che prendevo il sole ogni mattina e c'era un sole allucinante fuori al balcone che io prendevo tutte le mattine per ore per questo motivo sudavo in una maniera assurda poi mi allenavo anche siccome a me i crampi da come potrai immaginare mi danno proprio fastidio non li sopporto proprio ho pensato di iniziare ad integrare il magnesio bisglicinato che come dicevo nel video precedente è la forma migliore da assumere per alleviare i crampi per rilassare i muscoli per favorire il sonno tra l'altro io sospetto di aver sempre avuto una carenza di magnesio nella mia vita perché in passato sono sempre stato una persona abbastanza diciamo abbastanza irascibile emotiva poi ho sempre sofferto di insonnia per tantissimi anni e non riuscivo mai a superarla l'insonnia è sparita nel momento in cui ho iniziato la dieta carnivora ciò nonostante negli ultimi tempi stava ricomparendo per cui avevo ripreso la bruttissima abitudine di andare a dormire molto tardi e di svegliarmi tardi non era proprio insonnia ma era proprio un'alterazione del ritmo circadiano e poi dormivo veramente poche ore qualche volta invece la notte non dormivo proprio per cui il problema si stava ripresentando problema che invece è sparito proprio nel momento in cui ho iniziato ad integrare il magnesio bisglicinato guarda un po la combinazione ho iniziato ad integrarlo prima di dormire per cui prendevo un misurino piccolino 250 mg di magnesio prima di dormire e questo mi aiutava però mi sono reso conto che evidentemente bere prima di dormire non è proprio l'ideale perché mi capitava che mi svegliavo durante la notte per andare a fare pipì per questo motivo ho sospeso l'integrazione di magnesio prima di dormire mentre invece adesso lo prendo a stomaco vuoto in genere a pomeriggio oppure in generale comunque dopo l'allenamento per facilitare il recupero muscolare se mi alleno la mattina lo prendo la mattina e il magnesio sicuramente mi ha aiutato a superare l'insonnia è stato fantastico per alleviare i crampi mi ha permesso di alleviarli in un attimo il magnesio bisglicinato è perfetto per questo questo è il motivo per cui assumo il magnesio bisglicinato e lo consiglio assolutamente se una persona vuole risolvere gli stessi problemi che ho risolto io sicuramente una delle cose principali che mi ha convinto ad assumere sia lo iodio che il magnesio è il fatto che entrambi nutrienti possiamo ottenerli solamente in quantità ridotte attraverso l'alimentazione e che tantissime sostanze purtroppo ne inibiscono il loro assorbimento poi visto che sono implicati in tante funzioni vitali del nostro corpo allora ho deciso assolutamente di integrarli il magnesio ancora più dello iodio perché comunque lo iodio è importante per la detossificazione dei metalli pesanti di tutte le sostanze per esempio come gli halogeni il cloro il fluoro eccetera eccetera ciò nonostante il magnesio è ancora più importante secondo me perché è implicato in 300 reazioni biochimiche l'ho spiegato nel video precedente e è un elettrolita che facciamo fatica a ritenere nel nostro corpo e allo stesso tempo di fondamentale importanza per tantissime funzioni sin da quando ho iniziato l'assunzione di magnesio mi sento una persona sempre più tranquilla calma pacata e soddisfatta di ciò che fa non faccio più fatica a rilassarmi non faccio più fatica a dormire e non assolutamente mai più visto un crampo quindi io credo che sicuramente questi siano benefici derivanti dall'assunzione di magnesio bisglicinato tutti i giorni arriviamo all'ultimo integratore che ho deciso di aggiungere di recente la vitamina d3 con vitamina k2 questa è una marca che ho consigliato nel video della diretta comunque sui migliori integratori che si trovano su amazon e della marca bandini a questo tra l'altro le marche sia dello iodio che del magnesio sono e il troppo fan si trovano su amazon poi metterò il link nella descrizione quest'ultimo integratore quindi della marca bandini purtroppo la boccettina è solamente da 30 ml quindi 30 mililitri è più piccola rispetto ad altre ciò nonostante contiene molta più vitamina k2 rispetto alle altre marche questa contiene mille unità di vitamina d per goccia e 100 microgrammi di vitamina k2 per goccia mentre invece le altre marche contengono solamente 20 microgrammi oppure 10 microgrammi per goccia quindi questo ne contiene in misura 5 10 volte superiore la vitamina k2 abbiamo visto nel video su questo price che lui aveva scoperto essere fondamentale per l'attivazione di tutte le vitamine liposolubili questo è il motivo per cui ho voluto aggiungere anche la vitamina k2 alla vitamina d3 in questo momento ne sto assumendo circa 20 mila unità al giorno perché io sono una persona che ha sempre avuto problemi sulla pelle quindi per questo motivo anche se non ho più la psoriasi comunque mi sono rimaste alcune macchie ricordi del passato di quando avevo iniziato a riaggiungere il grasso del rene che poi mi ha dato fastidio e uno di questi fastidi dati dal grasso del rene è stato quello che mi ha fatto praticamente tornare delle macchie di psoriasi sul corpo adesso sono quasi andate via del tutto però mi sono rimaste un po' sull'avambraccio qua poi farò le farò vedere in futuro in prossimi video e mi è rimasta una macchiolina anche su una gamba e poi di frequente capita che sia rosso nelle sopracciglia oppure sia rosso al dietro le orecchie o ai lati della testa siccome voglio riuscire a superare questo problema una volta per sempre voglio riuscire a capire se c'entra qualcosa all'integrazione di vitamina d la vitamina d è assieme allo iodio al magnesio uno di quei nutrienti che facciamo fatica non solo a trarre dall'alimentazione ma ovviamente anche poi soprattutto in inverno in autunno anche in primavera in genere non c'è molto sole se non in estate per cui si fa fatica ad ottenere grandi quantità di vitamina d e anche la vitamina d oggi purtroppo è inibita da determinati fattori comunque non ci portano ad assimilarla per bene non solo a produrne per bene ma anche ad assimilarla poi ne parleremo in video futuri sulla vitamina d nello specifico sullo iodio ne ho già parlato sul magnesio ne ho già parlato la vitamina k2 ne ho già parlato quindi ti rimando a questi video se sei curioso di avere altre informazioni su questi nutrienti essenziali quindi ricapitolando in questo momento in un giorno sto integrando 6,25 milligrammi di iodio 250 milligrammi di magnesio bisclicinato 20.000 unità di vitamina t3 e 2000 microgrammi di vitamina k2 ok grazie mille per guardare il video se sei nuovo iscriviti al canale clicca sul tastino mi piace nessuno è obbligato a fare niente però se vuoi supportare il canale anche economicamente puoi farlo e ne sono contentissimo in basso trovi il tastino che dice grazie oppure abbonati ma puoi anche farlo tramite il primo link nella descrizione ok quindi fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti fammi sapere magari quali sono gli integratori che tu stai assumendo e per quale motivo grazie mille per aver guardato ci vediamo al prossimo video grazie a tutti